E chi sta facerete? Stati Uniti! Questa è Garmin Barracuda! Questa è Garmin Barracuda! E ora facciamo la premiazione e la consegna della maglia rosa al leader della classifica generale del Giro d'Italia. La maglia sarà consegnata da Flavio Tosi, sindaco di Verona. Il leader della classifica del Giro d'Italia dopo la quarta tappa è Ramunas Navardauskas! Garmin Barracuda! Ramunas Navardauskas riceve la maglia rosa! La maglia è così, sindaco di Verona! L'applauso per Ramunas Navardauskas! E ora facciamo la maglia rosa a vestire la maglia rosa! Ramunas Navardauskas! Verà Garmin Barracuda! Grazie! Grazie! Grazie a tutti. La Champions League qua. La Champions League. Sul tetto del Giro Italia veste la maglia rosa, il simbolo del primato. Eh? Eh, che visi. Siamo in Centro Sliga qua. Siamo in Centro Sliga. Ma nemmeno un cavolo il giocattore. Ma i vincitori non danno un cavolo, neanche un trofeo, un'intera. Non un cavolo. Tutto e due è con te. Beh, almeno uno ti dà. Tutto e due è con te. Al termine della quarta tappa della Giro d'Italia, il mezzo grosso oltre il primo. Meglio grosso, la testa australiano. Riccede la maglia rosa. Ha vinto la tappa di Orsens e l'assessimo del primato. Nella prossima punta al Giro d'Italia. Meglio. Arley. Gossard. Organt Rienage. Ah, yeah. Arley. Gossard. Grazie. 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 Maia giura Premio simpatia Premio simpatia, dai Bene, come è fatto? Ora Questa è lui la colpia Ma fai vedere l'inizio Eh, io voglio vedere l'inizio Non voglio vedere l'inizio Non mi porto a metruzzi Non mi porto a metruzzi Ehm, fammi vedere l'inizio Che mi pare sempre quella E poi anche qui No, qua Non mi porto a metruzzi Non mi porto a metruzzi Non mi porto a metruzzi Ehm, da parte non c'è l'amore C'è solo la bionda Premiato dal sindaco di Verona Flavio Tosi E da Cristo Pusti Direttore generale Oggi E premia tutti lui Alfredo Bianca Bianca Non è la scuola con me, è la scuola distaccata. Campione del mondo, non è che... Battaglio zero, ananas e banana, ci mettiamo la firma. Così Battaglio zero. Arriba, arriva. Eh? Arriva. Tosi non va via, quindi potete prendere lui. Vuoi dire che prendi lui ancora? Eh, questo è il signor. Adesso c'è quello l'autoderma e... Per quanto riguarda la Pacifica Giovani al Giro d'Italia 2012. Adesso arriva. Eh, ma i Battaglio zero si fanno aspettare, eh. Battaglio zero. Il Giro d'Italia. Il Giro d'Italia è bello perché... La maglia sarà consegnata da Giuseppe Tartaglione, presidente Volkswagen Bruno d'Italia. No, per la meta, non tosi qua. No, perché almeno... Maglia bianca al Giro d'Italia 2012 è... La maglia viene consegnata da Giuseppe Tartaglione, presidente Volkswagen Gruppa Italia, e da la città con il Giro d'Italia, Flavio Rossi. L'applauso per... La maglia viene consegnata da Giuseppe Tartaglione, presidente Volkswagen Gruppa Italia, in un'altra parte del BTC di Superbraciglie. No, no! Dona la maglia rosa, adesso e qui anche la maglia bianca a bianca a bianca, il miglior giovane è il portocolore della Garmin Barracuda, Ramuna Navarvarskaja! Grazie a tutti Non lo so E siamo arrivati alla premiazione Timing ufficiale Per quanto riguarda questa tappa I corridori saranno premati da Flamiotosi Sindaco di Averona Eso non importa con noi Nella carina barracura Hai la spada